Musica Buonasera amici di Globus Television e benvenuti a Globus Sport News, il TG sportivo a cura della nostra redazione. Andiamo a vedere quali sono le notizie di oggi. Partiamo subito con il calcio a mercato perché il botto, anzi i botti, li continua a fare il Milan che ha preso dalla Juventus il difensore Leonardo Bonucci e della Lazio il centrocampista Lucas Biglia. Una campagna acquisti davvero faraonica, quella dei rossoneri che hanno messo a segno 8-9 colpi di grandissimo valore in attesa di capire se ci saranno i margini per prendere un attaccante di alto livello. Si parla di Bellotti, si parla di Aubameyang del Borussia Dortmund, si parla anche di Kalinic della Fiorentina. Alla Juventus per Bonucci andranno circa 40 milioni di euro, alla Lazio per Biglia andranno circa 17 milioni di euro più 3 di bonus. Adesso ovviamente tocca alla Juventus rinforzarsi anche perché il Milan con la campagna acquisti a cui ha dato vita sicuramente si candida ad un posto per la lotta per lo scudetto. La Juventus che cerca il sostituto appunto di Leonardo Bonucci. Possibile l'arrivo di Caldara dall'Atalanta che è già di proprietà della Juventus ma che è in prestito appunto alla squadra orobica. Altri nomi caldi sono quelli di Manolas della Roma e di De Vrij del Lazio. Per quanto riguarda le altre squadre, le altre Big, tutto fermo in casa Inter dopo l'arrivo di Borca Valero. Mentre la stessa Roma di cui abbiamo parlato prima in merito a Manolas si prepara ad accogliere in rosa De Frel del Sassuolo che è stato allenato da Di Francesco proprio in Emilia e Nastasic dello Schalke 04, ex difensore centrale tra l'altro di Manchester City e della Fiorentina. Passiamo adesso al Catania in Serie C. Scatta oggi il ritiro della formazione di Lucarelli a Torre del Grifo per l'ottavo anno di fila. Il ritiro precampionato appunto avrà luogo nella struttura etnea. 29 i convocati da parte di Cristiano Lucarelli, presenti anche i nuovi ovviamente ed anche i tanti possibili partenti fra cui Khalil e Scoppa. La notizia del giorno è l'arrivo a Torre del Grifo di Ramzi Aya, difensore centrale della Fidelisandria con cui il Catania ha già trovato l'accordo però c'è ancora bisogno di limare qualche dettaglio appunto con il club pugliese che vorrebbe come contropartita uno Tratino Parisi o Max Barisic ovviamente in prestito. Infine sono già più di 170 a ieri sera gli abbonamenti sottoscritti nei primi due giorni di campagna. Già stasera saranno possibilmente più di 200. Insomma la campagna abbonamenti rosso-azzurra procede spedita. Ricordiamo che al momento la campagna abbonamenti è dedicata soltanto per quei abbonati appunto che faranno valere il diritto di prelazione. La vendita libera scatterà tra qualche settimana. Passiamo adesso ai motori, agli altri sport. Fine settimana dedicato alla Formula 1 con il Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone Sebastian Vettel cerca di allungare ulteriormente su Hamilton su cui ha 20 punti di vantaggio nella classifica del Mondiale Piloti. Ovviamente Hamilton però corre la gara di casa proprio in Inghilterra. Attenzione però al finlandese Valtteri Bottas che è reduce dalla vittoria in Austria in extremis sullo stesso Vettel ed è la vera mina vagante di questo Mondiale Piloti al terzo posto. Chiudiamo infine con il tennis. Si stanno svolgendo le semifinali del leggendario torneo di Wimbledon e il tempo di rush finale. Roger Federer è l'ultimo dei big rimasto visto le eliminazioni di Djokovic per ritiro contro Berdic, di Murray contro Querrey e di Nadal eliminato già agli ottavi da Gilles Müller. Federer affronterà oggi proprio Thomas Berdic che ha eliminato anche grazie al ritiro Novak Djokovic. Dall'altra parte del tabellone ci sarà una sfida un po' particolare, inaspettata tra due diciamo outsider. Marin Cilic vincitore dello US Open 2014 e lo stesso Sam Querrey giustiziere del padrone di casa Andy Murray ai quarti di finale. Già invece definita la finale per quanto riguarda il tabellone femminile sarà la veterana Venus Williams ad affrontare la giovane Muguruza. Venus Williams che è la più anziana tra virgolette delle sorelle Williams cerca addirittura il settimo trofeo a Wimbledon. Era questa l'ultima notizia di oggi. Vi ricordo che per restare aggiornati su tutte le notizie sportive basta collegarsi con il nostro portale www.globusmagazine.it. Un saluto dal vostro Niccolò Marchese e buon proseguimento con i programmi di Globus Television. Ciao. Ciao.